e buonveno al mio nuovo Samenhof a Medito. Adesso mi voglio prendere l'Aliha libro, verità di Samenhof, che è la fondamento di Esperanto. Mi trovo in mia laborciambra, in l'università, e mi ne stia, ci mi daure raitos inveni in la venonta monato, perché ecde ci vespere in Niederlando ec activigiasi la nuovai coronavirus in reguloin, dove, in realtà, mi stiamo in una nuova nuova, e non è chiaro, non è chiaro, ci mi era raitos venio a me. Cioè, molti libri faccio. Adesso, è qui. Adesso mi mostro il lino qui, rapidamente. poi l'homo e chi vi vediamo. Io sono due vizie per la parte. parto, un vero sudo mio naso. Cioè, è un'interesse di vedere e leggere l'exerzio, perché, in l'exerzio, della fondamenta di speranto, pagio 106, paragrafo 22, la nuova frase è la sequa. Fluanta acqua è la sequa più pura, o l'acqua stranta sen nove. Cioè, mi chattisci questa frase. Cioè, ti ho memorizzato a me i canali di Amsterdam, da vediamo, ci es aqua, c'è il fuo, c'è il fuo, è fluo ma rapide, c'è il fuo staginas. Cioè, do, c'è il fuo, e il fuo, la purezza del'acqua. Cioè, noi viviamo tempo, in cui, noi deviamo essere i preti, Esti fluanta acqua, mi pensas. Por esti plipurai. Car se ni staras en move, c'io povas ocasi al ni. C'è una strange, dirit ion, gius, antau ol comenzo de trud isolicio, gvantam duon trud isolicio. Sed, ja, to, mi pensas che almeno lao niai perspektivoi, vinde vas esti malfermitai, car ne niu, povas diri ciun formon prenos la estontezzo. nu, cor andan comproviatento, gis morgau, eble mi de nove filmetos ion, minest sias, sed, povas esti. Ciuvisciatus, avim allonga in filmeto, in mine, plus petos musicon al paolo gilione, quiu estas tre occupata nun, sed, eble, pos, esti interesse vidiom della urbo, en, cetiu, espereblex ordinare a tempo chiu alveno sbaldau. Todenove, gis morgao caicchielciam, antauen, sen fine.